sta configurando solo qualche istante ok ci siamo siamo live Angela metti la volta qui siamo live Angela ti devi smutare ok adesso ti sentiamo mi sentite? prego puoi cominciare bene possiamo cominciare? bene buonasera a tutti e a tutte io sono Angela Dogliotti del centro studi Sereno Regis che è un centro nato a Torino nel 1982 che lavora sui temi della non violenza della pace dell'ambiente e questa sera abbiamo il piacere veramente di presentare questo testo di Saul Alinsky Radicali all'azione che devo dire io non conoscevo conosciuto in questa occasione leggendo la prefazione di Alessandro Coppola e Mattia Diletti che sono questa sera con noi trovo che sia un testo molto molto interessante e quindi diciamo che questa sera credo che avremo la possibilità di approfondire e di capire meglio sia il contesto in cui nasce questo libro degli anni 30 negli Stati Uniti sia in qualche modo il movimento che poi nasce di Community Organizing allora io sono ho un problema di connessione quindi sono un po' in handicap qui in difficoltà col cellulare quindi lascerei la parola subito a Giorgio Barazza che per presentare tutti quelli che interverranno e introdurre un po' l'incontro volevo solo portare i saluti del Centro Studi e dirvi che siamo molto contenti di questa speriamo che questo questa occasione sia l'inizio di un lavoro comune grazie oh non toccherebbe a me sì va bene io sono quello che ha detto Angela Giorgio Barazza e direi che il mio obiettivo è quello di cercare di collegare cosa c'entra il Community Organizing con il Centro Studi Sereno Regis e allora ho pensato di mettere a fuoco una figura che conteneva un po' queste due realtà queste due esperienze e la figura è quella di Cesar Chavez che è vissuto tra il 27 e il 93 dell'altro secolo ma che però era anche un attivista non violento molto conosciuto negli Stati Uniti e vorrei toccare tre cose praticamente una prima parte di lui in formazione allora lui diciamo ha ricevuto una sua formazione come Community Organizing da un certo Ross che faceva parte di un'associazione che aveva messo in piedi a Linsky per trasferire questa esperienza attraverso la preparazione di altre persone era 25 quando ha conosciuto questo Ross il quale aveva messo in piedi in California siamo in California e siamo nel 48 una Community Service Organization un'organizzazione che diciamo si occupava dei latini e cercava di aiutarli a votare e a tutta una serie di altri diritti civili che erano diciamo violati e così diciamo Ross si è occupato della formazione di questo Chavez che era un Cicanos era un bracciante agricolo la sua famiglia arrivava da lì e quindi lavorava come tutti gli altri 7 milioni di Cicanos che erano presenti in California in quel periodo finita la sua formazione naturalmente lui era molto coinvolto in questo era interessato era appassionato ad affrontare i problemi sociali è entrato in azione è entrato in azione come organizzatore di comunità community organizer e è così bene entrato in azione che nel tempo è diventato anche diciamo responsabile di tutto lo stato della California di questa di questa di questa organizzazione e dieci anni è durata questa sua esperienza come direttore dal 53 al 61 poi lentamente la sua preoccupazione è sempre stata quella di diciamo occuparsi dei Cicanos da cui lui proveniva e non si trovava bene in questa esperienza in cui sembra che i braccianti agricoli non venissero presi in considerazione per cui ha lasciato questa organizzazione pur mantenendo la cultura che c'era dentro e ha fondato un suo sindacato un sindacato dei lavoratori agricoli e quindi nel frattempo lui è diventato un conoscitore di Gandhi che in quel periodo c'era state tutte le lotte per la liberazione dell'India dal colonialismo inglese e quindi ha messo insieme la cultura del community organizer con la cultura delle lotte gandiane ed è venuto fuori questo personaggio che è conosciuto come all'estero e anche là come un sindacalismo non violento è riuscito a mettere insieme diciamo le tre cose che l'interesse individuale collettivo della gente le capacità di coltivare le capacità di azione di agire esercitare il proprio potere e le capacità di mettere in piedi i conflitti per modificare gli status quo questa era un po' l'esperienza che gli arrivava come community organizer e dall'altra c'era l'esperienza che gli arrivava dalle lotte non violente e quindi i digiuni come lavoro su di sé per prepararsi personalmente a mantenere una disciplina non violenta anche all'interno dei conflitti ad alta intensità che comunque affrontava nei confronti dei proprietari terrieri e dei proprietari delle aziende vericole e dei provocatori che li mettevano contro ha utilizzato anche molto le marce come momento di comunicazione per fare conoscere ad esempio la legge che tutela e garantisce la presenza del sindacato nelle aziende agricole prima legge in tutti gli Stati Uniti che è stata realizzata ed è riuscito a praticare molto bene anche le azioni di boicottaggio boicottaggio per esercitare una lotta non violenta fino in fondo togliendo il potere ai datori di lavoro e fornendo e coltivando il potere invece di tutti gli attori coinvolti nelle situazioni di lotta diciamo che la cosa essenziale che io colto come suo interesse principale era l'organizzazione il senso dell'organizzazione attraverso diciamo l'organizzazione come diciamo stare con la gente comunicare stare con la gente organizzazione come restare insieme organizzazione come agire collettivamente e organizzazione anche come non perdere il controllo del potere dell'organizzazione che è stata diciamo messa in piedi attraverso una leadership diffusa cosa molto presente all'interno anche delle lotte non violente e vorrei concludere semplicemente con se Ilaria me lo può mettere a video con un'immagine non so se lo puoi fare tu Sara un'immagine che presenta un po' quello che è diciamo il collegamento tra l'esperienza di Chavez nelle lotte non violente e la cultura organizzativa che ci stava dietro allora direi che il video che potete vedere è è un video in cui praticamente si illustra la natura del potere che c'è una visione non violenta abbiamo quattro fasi chi è in cima pensate che sia al comando nei fatti non comanda ha solo un potenziale di potere di governare diciamo ma tutto ciò dipende da tutti gli attori che sono coinvolti in quella situazione sia quelli interni sia quelli esterni e Chavez è stato un micidiale organizzatore mobilitatore di tutte le parti terze che non sono che sono disattive ma ma vengono mobilitate dalla sua organizzazione per entrare in gioco anche loro in un secondo momento questi attori devono decidere cosa fare che grado di collaborazione mettere nella situazione in cui sono coinvolti per fare un esempio nello sciopero nel boicottaggio dell'uva riuscivo a fare impegnare i consumatori a non più comprare l'uva ma un impegno scritto non più comprare l'uva e ogni volta che vedevano dell'uva mettersi lì a parlare dell'organizzazione che è in corso di boicottaggio e questo deve essere fatto fin tanto che i proprietari italieri non delle aziende agricole non accettavano l'accordo con il sindacato e in base al grado di collaborazione chiaramente veniva messo a disposizione del potenziale di chi governa delle fonti di potere che potevano essere l'acquisto dell'uva tanto per dire oppure il non andare a comprare in certi posti e andare a comprare in altri e di conseguenza queste fonti di potere permettevano se venivano messe a disposizione di governare ma se non venivano messe a disposizione impedivano di stare in piedi a qualsiasi potere quindi è come se fosse una piramide e quel poveretto che lui deve governare si trova sulla superficie della base però rovesciate quindi in un continuo instabilità fino a che non crolla io chiuderei questo come presentazione di Chavez e delle sue esperienze di l'Orenta e di sue esperienze come orgo di comunità e quindi la ok credo che si sia leggermente interrotto l'audio grazie Giorgio per questo intervento per il collegamento fra la figura di Chavez un community organizer formato ufficialmente fra i primi a venire formati da Alinsky Giorgio stesso ha partecipato a una formazione organizzata dall'associazione community organizing a Roma quest'autunno che si è svolta in parallelo alla formazione che abbiamo sviluppato qua a Torino di cui Marina e Davide sono stati partecipati e si presenteranno poi più avanti durante l'incontro ma adesso lascerei la parola a Mattia di Letti Alessandro Coppola per la presentazione vera e propria del libro così cominciamo a entrare nel caldo nel vivo prego Alessandro comincio io vai vai allora sì intanto grazie mille per l'invito insomma noi siamo sempre molto contenti di discutere questo libro è un libro che è stato scritto proprio con l'idea di riuscire a discuterne il più possibile è un libro che noi abbiamo scritto grazie alle edizioni dell'Asino che sono un collettivo editoriale che è nato attorno a Goffredo Fofi qui a Roma dove lavorano anche molti giovani avrete presente sicuramente anche la rivista degli Asini che è sempre nello stesso ambito editoriale della casa editrice che ci ha ospitato è un libro che doveva uscire in realtà un po' di tempo fa questo libro che è stato possibile scrivere grazie al contributo economico del mio dipartimento della Sapienza a Roma dove lavoro il dipartimento di comunicazione e ricerca sociale ma diciamo che tristemente il fatto che è uscito forse qualche anno dopo rispetto ai nostri piani tristemente l'attualità del libro non svanisce nel senso che questo è un libro che abbiamo pensato fosse utile discutere proprio perché rimane aperta la questione di come si organizza la società dei senza potere che in un contesto di crisi come quello che attraversiamo ormai da lungo tempo per di più adesso con questa lunga coda della nuova crisi della pandemia rimane un tema fondamentale cioè chi non ha potere come si organizza noi non abbiamo scritto il libro per dare delle ricette perché insomma io di mestiere faccio lo studioso soprattutto però vogliamo raccontare la vicenda di un pensatore studioso attivista soprattutto un attivista che inventò un metodo tutto nuovo di organizzazione della società e appunto di organizzazione dei senza potere in un contesto di crisi molto grave quindi abbiamo lavorato per far tradurre questo questo testo racconti insomma Alinsky è un ha scritto due libri sostanzialmente non era particolarmente prolifico non era uno particolarmente interessato a scrivere di all'attività insomma di di scrittura soprattutto uno che amava fare le cose questo è un testo del 1946 che raccoglie la riflessione di Savalinsky dopo che lui è intervenuto in un quartiere di Chicago estremamente conflittuale quartiere che era ridosso di una enorme fabbrica che impacchettava le carni in Chicago Chicago era il centro del era una sorta di centro di stoccaggio per tutti gli Stati Uniti dove si arrivava la carne americana veniva macellata rimpacchettata e ammettata nel resto degli Stati Uniti tutto questo avveniva dentro un enorme comparto industriale che ovviamente attraversava la crisi della grande depressione negli anni trenta Alinsky nasce come sociologo nella famosa scuola di Chicago dell'Università di Chicago degli anni trenta lavora con grandi padri della sociologia americana però sostanzialmente abbandona il abbandona il percorso di studi e di analisi lui aveva cominciato proprio studiando i giovani delle comunità svantaggiate e la delinquenza giovanile a Chicago decide invece di aiutare il quartiere dove vivivano la maggior parte degli operai di questa grande fabbrica di impacchettamento delle carni ha insomma decide di sostenere questo quartiere inventando metodi di organizzazione che rendono più efficace non solo la battaglia sindacale ma anche la battaglia di divendicazione del territorio e che soprattutto lasciano una comunità più forte una comunità locale una comunità la comunità sindacale più forte più organizzata e capace sostanzialmente di strutturare domanda mobilitazione conflitto partecipazione anche oltre quella che fu una battaglia che si è svolta poi sostanzialmente nel 39 c'è quasi a ridosso dell'inizio della seconda guerra mondiale per l'aumento del salaio nella fabbrica insomma nella nella fabbrica insomma il suo obiettivo è quello in realtà soprattutto di lasciare un'eredità a chi aveva avviato quel conflitto inventando questo metodo appunto che di cui si parla nel libro che è il community organizing quali erano le basilari le direttive basilari sulle quali ha lavorato Alinsky che sono quando noi sono di particolare interesse la prima cosa è come si fa a far lavorare insieme su un obiettivo condiviso le persone che si magari condividono insieme una situazione di disagio comune come era quella di quartieri con condizioni di vita per certi versi anche terribili e un forte disagio nel lavoro di fabbrica come si fa insomma a mettere insieme però era una comunità estremamente divise tra di loro composte da comunità di immigrate ed etniche che non avevano fuori dalla fabbrica punti di contatto punti di relazione forti cioè quella era una zona era un quartiere in cui gli slavi gli italiani gli irlandesi gli immigrati erano sostanzialmente in competizione tra loro anche dentro una certa stratificazione tra le varie comunità di immigrati quindi come si fa a costruire una relazione tra i senza potere questo era uno degli obiettivi di Alischi capire come si riusciva a costruire una ponti e strumenti comuni e come sostanzialmente una volta costruiti questi ponti queste organizzazioni comuni come si riuscisse a trovare punti di interesse comuni su cui costruire delle battaglie rilevanti per quelle comunità sostanzialmente si potesse costruire potere uno dei punti centrali del discorso di Alischi è come si istituisce potere a comunità che non le possedono questa parola è una parola chiave nel discorso di Alischi cioè come si distribuisce potere gli antagonisti di quelle comunità erano da una parte le forze politiche che in parte erano organizzate dentro i quartieri anche attraverso strutture clientelari i partiti politici in particolare quello democratico a Chicago e dall'altro ovviamente c'era la controparte del diciamo della fabbrica per riuscire a restituire potere Alischi inventa relazioni che nessuno aveva mai creato adesso ci possono sembrare meno come dire fantasiose di allora però relazioni tra la chiesa e il sindacato per esempio che nel libro verrà raccontato è la grande novità la grande invenzione di Alischi è trovare un modo per riuscire a mettere insieme due istituzioni che non si parlavano che non si parlavano tra loro altro elemento chiave è quello della costruzione di competenze organizzative Alischi Alischi è ossessionato dall'idea che è sostanzialmente molto basilare molto semplice che laddove non c'è la capacità di produrre potere attraverso il denaro la forza la posizione sociale bisogna produrre potere attraverso l'organizzazione e il numero cioè costruire organizzazioni partecipate robuste con grandi numeri con la fatica e il tempo che va perso per riuscire a tenere insieme molte persone molto diverse tra loro con l'idea appunto che il numero è uno degli strumenti a disposizione dei senza potere quindi l'ossessione per l'organizzazione è l'idea che le organizzazioni debbano essere costruite non semplicemente per ottenere delle rivendicazioni degli obiettivi di breve periodo ma soprattutto per restare cioè per creare in modo permanente una ridistribuzione di potere all'interno di una città di una struttura sociale quindi questa esperienza del community organizing poi resterà nel tempo è durata ben oltre l'esperienza del conflitto locale di Chicago diventerà l'organizzazione che nasce in modo permanente dopo questa mobilizzazione nel 39 è un'organizzazione che diciamo entra a far parte dei poteri della città un altro elemento fondamentale per Alinsky è l'idea di riuscire a creare leadership non so se è la parola che è più bello da utilizzare però leadership autoctone leadership effettivamente formate all'interno di quel contesto l'idea di Alinsky lui che è il primo community organizer che si mette alla prova alla fine degli anni 30 è il costruttore dei ponti che nell'auto narrazione di Alinsky si sottrae poi a non è più se ne va e lascia sostanzialmente come eredità aiutato a costruire una serie di leadership autoctone che sono capaci di continuare a costruire domanda organizzazione mobilitazione quindi l'idea che sostanzialmente appunto i senza potere debbano costruire quelli che forse noi che chiameremo gruppi dirigenti non so se è la parola più adeguata ma delle strutture entro cui si costruisce alcune figure di militanti forti che aiutano a costruire la strada il disegno per le mobilitazioni sanno individuare chi è la controparte sanno dove si dove si prendono le decisioni con chi va fatto il conflitto come si motivano le persone e che hanno storie però credibili per gli altri che li devono ascoltare perché sono effettivamente storie uguali a chi a chi quindi patisce le stesse sofferenze a chi mancano gli stessi diritti eccetera eccetera quindi io adesso vorrei magari poi non so se faremo un giro dopo vorrei chiudere in fretta per avere la discussione più ampia possibile però secondo me insomma noi abbiamo voluto far tradurre questo libro discutere questo libro nel 2020 quando è uscito nel 2021 con l'idea che in fondo questi problemi sono problemi permanenti il problema della redistribuzione del potere all'interno di una società della sua distribuzione uniqua è un problema che rimane anche oggi anche oggi abbiamo per quanto abbiamo società dense magari pieni di attivismo e di organizzazioni abbiamo società fortemente frammentate in cui il tema dell'alleanza tra soggetti che devono costruire domanda domanda sociale è un tema che rimane inalterato e rimane la questione di società estremamente complesse con soggettività molto diverse entro cui è sempre difficile riuscire a costruire strumenti di organizzazione che nel tempo garantiscano una buona qualità di partecipazione di acquisizione di risultati di costruzione di gruppi dirigenti insomma non c'è da quel libro probabilmente non si impara come si costruisce l'organizzazione senza potere nel 2020 ma sicuramente si incontra una figura che in momenti in cui era necessario costruire innovazione inventarsi strumenti inventarsi idee inventarsi modi per connettere le persone si è posto il problema di come dare soluzioni a questi problemi io credo che in fondo il libro serva a questo cioè a innescare la domanda ma io oggi se tu volessi fare la stessa cosa che cosa dovrei fare non c'è solo questo c'è anche poi la parte del lavoro come dire da studiosi che interessa a me Alessandro e ad altri che poi invece è capire nel profondo che cosa è stata veramente quell'esperienza cosa ha di unico e di particolare e di ripetibile perché poi non ne parliamo ora ovviamente gli Stati Uniti sono un luogo così vicino e così lontano rispetto a noi cioè dove alcune cose sono simili alla nostra società europea e altre lo sono affatto quindi nello scrivere questo libro abbiamo anche cercato di dire che questa esperienza del community organizing sia replicabile ed esportabile anche da noi ma anche una vicenda tutta americana che va capita nella sua interezza nella sua completezza nella sua eccezionalità mi fermerei qui ok allora Mattia grazie perché secondo me hai detto già moltissime cose quindi io mi limito a forse diciamo a sottolineare alcuni degli aspetti che ha già che ha già citato Mattia e direi che essenzialmente il portato principale e direi anche il motivo che ha spinto Mattia e me a lavorare a questa traduzione alla sua curatela è davvero la rilevanza di un approccio che pone la questione delle diseguaglianze in una prospettiva di diseguaglianza anche del potere e questa è una prospettiva che spesso anche nel nostro insomma nei dibattiti che riguardano il nostro paese che coinvolgono il nostro paese è una prospettiva che ragamente viene affrontata fortunatamente siamo in un periodo in cui il tema delle diseguaglianze l'attenzione sebbene molto retorica dal punto di vista soprattutto dei gruppi dirigenti alle diseguaglianze è cresciuta comunque quando in qualsiasi situazione nella quale si pone la questione delle diseguaglianze in una prospettiva di diseguale accesso al potere all'esercizio del potere e alla capacità di influire su processi decisionali c'è sempre una certa c'è sempre una certa sorpresa noto sempre una certa sorpresa e credo che da questo punto di vista il valore della traduzione di Alinsky in Italia sia esattamente questo cioè mettere davvero al centro dell'attenzione il potere come un oggetto che è distribuito in modo diseguale quanto se non più le risorse materiali e sottolineando quanto ovviamente la distribuzione la equa distribuzione delle risorse materiali in una società e non solo materiali ma anche del riconoscimento del riconoscimento sociale e culturale dipenda tantissimo in una misura molto molto importante in una società che comunque si vuole pluralista che si vuole ispirata ai principi di una democrazia liberale dipende da quanto diversi gruppi sociali riescono ad accedere al potere riescono ad esercitarlo ovviamente e da questo punto di vista Linsky è assolutamente inequivoco il potere non è concesso il potere lo si ottiene in una prospettiva che per lui che è americano diciamo la vede molto in una prospettiva competitiva cioè una società aperta nella quale diversi gruppi competono per il potere sicuramente Mattia ed io la vediamo più in termini più tradizionalmente diciamo conflittuali non soltanto la competizione fra diversi gruppi ma anche il conflitto rifacendosi insomma a teorie del cambiamento sociale più europee diciamo così questo lo dico perché è importante è importante e forse tra l'altro da un certo punto di vista qui davvero pongo una questione in realtà la pongo a Mattia che fa il politologo ma facendo questi ragionamenti abbiamo avuto come dire grandi cambiamenti anche nella politica nel nostro paese negli ultimi anni raramente li abbiamo affrontati e li abbiamo discussi in questa in questa prospettiva per esempio si è discusso molto di populismo della nascita di una cosa insomma un'esperienza con il movimento 5 stelle raramente però si è posta la questione del riflettere se dietro questi movimenti dietro questi cambiamenti c'era una questione di per esempio gruppi sociali che ponevano una questione di potere sebbene indirettamente sebbene in modo politicamente possiamo definirlo immaturo e così via finita questa premessa che però a cui tengo a cui tengo molto io sono arrivato a questo lavoro su Alinsky mentre appunto Mattia è un politologo io faccio l'urbanista mi sono insomma urbanista nel senso più ampio possibile e senza dubbio per chi studia il cambiamento urbano per chi studia i movimenti urbani Alinsky è un punto di riferimento fondamentale perché è uno degli iniziatori di una concezione espressamente ed esplicitamente urbana dei conflitti delle assimetrie di potere del come si possono costruire nel corpo sociale delle concrete possibilità appunto di cambiamento e di aumento del potere per i gruppi sociali subordinati quindi voglio sottolineare alcuni aspetti un aspetto fondamentale è quello delle conoscenze vedrete leggendo il testo come diceva Mattia Alinsky nasce come ricercatore sociale alla scuola sociologica di Chicago che è la scuola che di fatto pone per primo l'orizzonte della ricerca qualitativa al cuore dei processi sociali come un terreno legittimo di produzione di conoscenze scientifiche cioè l'idea che l'osservazione degli ambienti umani che il confronto diretto attraverso l'osservazione l'intervista la pratica etnografica possa produrre delle conoscenze considerabili scientifiche quindi il tema delle conoscenze in Alinsky è fondamentale cioè lui propone un metodo scientifico all'organizzazione collettiva che si basa aspetto molto importante sull'utilizzo e l'evoluzione di tutta una serie di tecniche che fanno parte della ricerca sociale le parti secondo me più belle del suo testo sono le parti in cui davvero ci accompagna in questo viaggio sul come costruire delle relazioni attraverso delle tecniche di avvicinamento delle tecniche di ingaggio che vengono dalla sua esperienza sul campo delle scienze sociali e che possono trasformarsi in delle tecniche di organizzazione questo è secondo me molto importante come molto importante Mattia già lo diceva l'aspetto di metodo scientifico dell'organizzazione collettiva e dell'azione collettiva che si fondi sull'analisi del potere anche di chi il potere ce l'ha questo è un altro aspetto molto molto importante sono bellissime pagine nelle quali Alinsky fa capire come quando si tratta di organizzare una mobilitazione collettiva la prima cosa che si deve fare è decostruire in qualche misura l'oggetto di questa mobilitazione cercando di capire chi ha da perderci se quella mobilitazione conseguirà un obiettivo chi ha da guadagnarci come si potrebbe muovere l'avversario così definito in risposta all'azione collettiva che si sta promuovendo quindi di nuovo una dimensione molto strategica e molto molto riflessiva sull'organizzazione del potere e come ci si può muovere all'interno di questa all'interno di questa organizzazione un aspetto che già è stato richiamato anche prima peraltro quando si parlava di Chavez l'aspetto coalizionale che anche questo è un aspetto fondamentale che ha molto a che fare con il metodo scientifico poi uso questa espressione che insomma mi piace ma non è detto che sia la più adeguata a descrivere l'approccio di Alinsky e non vorrei che tra l'altro lo si prendesse come se impoverisse il lato relazionale che invece è molto 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 forte cioè una riflessione su appunto come si costruisce in contesti caratterizzati da una grande frammentazione da un grande pluralismo come si costruiscono delle identità multiple delle identità ponte un concetto fondamentale che emerge dalla lettura di Alinsky e che di una modernità straordinaria è anche devo dire una delle ragioni per cui ci siamo convinti che valesse la pena tanti anni dopo fare questa traduzione in italiano è l'aspetto proprio della riflessione su come l'agire collettivo nelle nostre città è inevitabilmente un'agire coalizionale questo per noi italiani secondo me è molto importante nel senso che viviamo nel costante adesso c'è il centenario della nascita del PC viviamo nella costante specie diciamo fra negli ambienti progressisti nel costante lutto della perdita di grandi soggetti generali il partito il sindacato e tutta la riflessione sulla crisi della democrazia fatta da chi si colloca diciamo a sinistra e tutta sul abbiamo perso il partito abbiamo perso la grande organizzazione collettiva quando probabilmente in realtà dovremmo ragionare di come si ricostruiscono nella società delle identità multiple delle forme a rete e anche tra l'altro guardando a qualche anno fa alcune di queste forme di azione collettiva rete multiple sono state forse fra le poche che hanno lasciato nella società italiana qualche seme che poi insomma ha generato qualcosa quindi io diciamo mi fermo qui volevo semplicemente sottolineare questi tre punti e volevo chiudere sottolineando la cosa che già diceva Mattia che per noi è molto molto importante davvero siamo contenti che questo libro generi questi incontri cioè degli incontri con delle persone che sono sul campo a fare delle cose perché è davvero il suo uso il suo uso l'uso di questo libro è davvero è un libro che nasce come un manuale che voleva formare che voleva far discutere e insomma è una bellissima cosa che se ne possa fare questo uso anche qui era veramente questo era veramente questo un po' l'obiettivo di una traduzione che nasce da un interesse senza dubbio scientifico ma anche da un comune interesse civile mio e di Mattia io mi fermerei qui però ovviamente insomma se ci sono domande commenti con molto piacere grazie grazie Mattia e Alessandro io esorto i partecipanti a questa presentazione a cominciare a scrivere le domande se vogliono approfondire alcuni degli aspetti come vi ho indicato nella chat quindi scrivete pure serenamente qualsiasi approfondimento che vorreste sottoporre ai presentatori e a questo punto farei che lasciare la parola se Giorgio non ha niente da aggiungere a Luca Ozzano per presentarci come questa iniziativa nata negli Stati Uniti in un contesto particolare diverso dal nostro nonostante diverse siano le analogie come stia cercando e stia riuscendo comunque a riadattarsi metodologicamente parlando prego Luca grazie Sara buonasera a tutti a tutti sì dunque innanzitutto due parole sulle organizzazioni create da Alinsky prima e successivamente e come si arriva poi all'Europa e all'Italia intanto Alinsky come è stato accennato crea questa Industrial Areas Foundation negli Stati Uniti che diventa un po' la casa madre per la maggior parte di coloro che fanno community organizing anche se nascono anche altre fondazioni come la Gamaliel Foundation Faith in Action a Korn però la IAF diciamo è quella è quella principale ed è quella anche a cui fanno riferimento oggi le principali esperienze di community organizing in Europa il community organizing arriva in Europa abbastanza tardi un paio di decenni dopo la morte di Alinsky negli anni 90 anche se Alinsky aveva pensato di portare il community organizing in Europa già dagli anni 50 e 60 quando fa un viaggio in Italia e incontra diverse personalità tra cui Olivetti e altri e secondo qualcuno pensava appunto alla possibile esportazione di questo metodo in Italia che però non ebbe seguito e quindi lo sbarco del community organizing in Europa si ha negli anni 90 e in particolare nel 96 quando viene creata a Londra London Citizens che è un'associazione di cittadini che si evolve si espande oltre la città di Londra e diventa Citizens UK che oggi è la principale appunto associazione di community organizing nel Regno Unito e si è distinta nello scorso decennio in particolare per un dibattito organizzato appunto da Citizens UK a cui furono parteciparono i principali candidati per le elezioni del Regno Unito una decina di anni fa e si è distinta anche per una campagna sul salario minimo che fu lanciata in occasione delle Olimpiadi di Londra appunto un altro paese dove il community organizing ha attecchito è la Germania dove arriva ancora dopo arriva nel 2006 quando un sacerdote italo-americano Leo Penta che tra l'altro è il supervisor del progetto di Torino fonda l'istituto tedesco per il community organizing l'acronimo in tedesco è DICO a Berlino e poi anche questo si espande in altre città per esempio Colonia una città che come forse saprete ha particolari dinamiche di convivenza tra diverse culture forti comunità di immigrati e così via e una campagna che mi piace ricordare del community organizing in Germania è quella del quartiere di Schöneweide che era un quartiere di Berlino Oeste che dopo la reunificazione delle Germanie vengono chiuse delle fabbriche importanti che c'erano e vive un degrado molto forte quindi disoccupazione criminalità eccetera e l'associazione DICO inizia ad essere attiva nel quartiere a stimolare la leadership locale si crea un'associazione di quartiere questa associazione pensa ad un progetto per trasformare queste fabbriche di smesse in un campus universitario vengono trovati i fondi vengono superati gli ostacoli burocratici e oggi questo è uno dei campus più belli della Germania quindi una grande vittoria per questa associazione ci sono esperienze di community organizing anche in Francia in altri paesi europei l'Italia arriva un po' tra gli ultimi solo nello scorso decennio e in particolare la prima esperienza di community organizing in Italia si ha a Roma ad opera di Diego Galli che conosce conosce Alinsky il community organizing grazie alla biografia di Barack Obama che aveva fatto l'organizer a Chicago prima di entrare in politica e si innamora di questa idea va a fare una formazione negli Stati Uniti dopodiché è tornato e ha creato l'associazione community organizing di cui adesso anche noi di Torino facciamo parte e ha messo in piedi un progetto di community organizing nella periferia est e da ultimo appunto il progetto di Torino che nasce su stimolo dell'università all'inizio come progetto per la convivenza interreligiosa a Torino Nord a partire dal 2018 grazie a un finanziamento della fondazione CRT sono state fatte delle formazioni e successivamente è stata selezionata Sara Fenoglio come organizer del nostro progetto e si è messa in piedi questo progetto nonostante la pandemia che ha reso le cose molto molto difficili sotto certi punti di vista comunque adesso lascio la parola a Sara e ad alcuni leader locali delle organizzazioni di Torino Nord che vi racconteranno qualcosa in più grazie Luca allora io sono Sara Fenoglio come vi dicevo all'inizio mi sto occupando della parte un po' più operativa di questa iniziativa questo braccio di iniziativa che si sta sviluppando a Torino che è il secondo in Italia oltre all'iniziativa romana ecco dove è cominciato tutto questo percorso di community organizing o di rielaborazione di traduzione all'italiana di un metodo che nasce oltreoceano ma che pensiamo possa avere un valore aggiunto per il nostro percorso di cambiamento la nostra volontà di sviluppare delle visioni diverse dei percorsi diversi anche a ragione di un periodo storico in cui ci troviamo di fronte a una crisi della partecipazione della speranza della possibilità di poter effettivamente cambiare le cose a posteriori di una tradizione partecipativa politica particolarmente importante che è molto diversa da quella americana a Torino noi abbiamo cominciato nel 2019 operativamente in realtà nel 2020 e attraverso questo percorso nonostante le difficoltà dell'emergenza siamo riusciti a cogliere particolare entusiasmo da parte dei partecipanti e dei promotori che sono diventati di questa iniziativa di cui i due sono qua presenti e gli lascerò la parola a brevissimo perché nonostante la difficoltà nonostante l'isolamento comunque è estremamente presente dentro ognuno di noi la volontà di trovare percorsi trovare degli incastri di un puzzle complicato con delle tesserine molto piccole ma che con tanto investimento con tanta forza di volontà e con tanta anche voglia di mettersi in gioco e di giocare insieme sta creando delle relazioni nuove sta permettendoci di riscoprirci l'un l'altro in un percorso che parte in un qualche modo dalla persona dagli elementi delle proprie storie dall'ascoltare se stessi e il proprio vicino e quindi far riemergere qual è il valore aggiunto del proprio territorio nel nostro percorso ci siamo particolarmente concentrati sull'area di Torino Nord perché comunque il community organizing un altro degli aspetti centrali è quello dell'elemento della prossimità del condividere una stessa sorte in un qualche modo un fato comune e quindi fare gioco forza sul fatto che spalla contro spalla si possa riuscire a trovare delle soluzioni alternative rispetto al giocare da soli per questo motivo ci siamo concentrati sull'area Nord di Torino dove abbiamo trovato che ci fossero una serie di condizioni particolarmente rispondenti a quello che è stata la prima esperienza se vogliamo di Alinsky a Chicago in back of the yards e quindi abbiamo cercato di proporre e promuovere questa iniziativa coinvolgendo attraverso webinar una formazione specifica incontri sul territorio che stanno prendendo piede in maniera spontanea facendo anche emergere dei gruppi di lavoro se vogliamo di approfondimento dagli interessi che il territorio stesso si sta proponendo come prioritario da approfondire quindi non mi dilungo oltre ma lascio la parola a Marina Spanu e a Davide Necu per raccontare la propria esperienza e quindi grazie a tutti vado io? sì e buonasera a tutte e a tutti grazie per per l'invito e anche per la possibilità di raccontarvi quella che è stata la mia esperienza all'interno della formazione io sono una componente di cittadinanza attiva in tre abbiamo partecipato alla formazione sul community organizing cittadinanza attiva è un'associazione che si occupa di diritti e che fonda tutta la sua attività sulla partecipazione civica e sull'attivazione delle persone quindi come dire il community organizing ha offerto sicuramente un momento di anche confronto all'interno della vita associativa su nuovi su nuovi strumenti il community organizing ha rappresentato sicuramente uno strumento che è diventato per quanto riguarda me anche un modo di pensare e di vivere come dire e di stare nel mondo sostanzialmente perché tutti noi siamo sempre molto concentrati a lamentarci a protestare ma poi il passaggio all'attivazione quindi al mettersi in gioco diventa non facile il community organizing è interessante perché mettendo in relazione persone che come dire arrivano anche da realtà differenti come dire ci fa uscire da quella che secondo me è quella che è la nostra comfort zone ed è un approccio sicuramente molto impegnativo per molti di noi quindi le fasi del community organizing dall'ascolto all'azione prevedono anche una messa in moto di come dire anche di tanto coraggio se posso dirla metterla in questo modo quello che mi ha colpita e che ho raccontato a Sara l'altro giorno mentre parlavamo di questo evento è che mentre il community organizing è visto ed è come dire presentato come un complesso di strumenti ogni singolo strumento poi può essere utilizzato anche al di fuori della progettazione del community organizing a me è successo per esempio che mentre stavo presentando mentre stavo preparando scusate un un intervento per l'assemblea di Torino di cittadinanza attiva dove noi cercheremo insieme ad altri soci di portare all'interno dell'associazione il tema della salute intesa come salute di tutte le politiche che è un argomento molto insidioso molto complesso è visto un po' come la faccia nel mondo la salute in tutte le politiche sì ci deve essere ma poi nessuno si muove per farlo mi sono imbattuta in un link ho fatto un link diretto in com'è possibile che è un argomento così importante così attuale oggi che la pandemia ha svelato sostanzialmente della interconnessione tra la salute e ambiti non prettamente sanitari non sia il centro dell'agenda politica allora tutto il discorso dell'analisi del potere diventa ovviamente centrale chiedersi quali sono i nemici e quali sono gli strumenti per spostare il potere al fine di appunto permettere che la salute nella sua eccezione più più complessa entri nell'agenda di discussione di discussione politica in questo momento a Torino Nord non sono ancora partiti i progetti siamo ancora in fase così di organizzazione tra la rete di associazioni che ha partecipato alla formazione insomma a breve cercheremo di attivarci sul territorio grazie prendo la parola io grazie Marina e buonasera a tutti grazie per l'invito al centro studio di Sereno Regis io sono Davide Necu ho 28 anni professionalmente mi occupo di riqualificazioni e la politica in senso ampio è una ampio è una delle mie più grandi passioni devo fare i complimenti a Sara per essere riuscita a organizzare un evento di comunità pur non potendoci vedere di persona non è stato semplice perché come potete immaginare la lontananza fisica è un ostacolo enorme e è un ostacolo soprattutto alla nascita di un senso di appartenenza per parlare di Anninsky io partirei dal sottotitolo organizzare i senza potere io vengo da Barriera di Milano e tempo fa come ho anche detto durante uno dei nostri incontri mi resi conto che per varie ragioni i cittadini del mio quartiere non partecipavano ai tavoli del potere e parlo di potere economico potere politico e potere culturale e questo è un peccato perché la zona nord di Corso Regina quindi non soltanto Barriera di Milano conta 270 mila abitanti circa ovvero circa un terzo dei cittadini della città e il luogo dove nascono i figli di seconda generazione è il quartiere e la zona della città con grandi speranze per il futuro perché il presente non è particolarmente erosio ma proprio per questo con grandi disuguaglianze e la conseguenza è che spesso queste zone pur rientrando al centro del dibattito cittadino prima delle elezioni vengono dimenticate e spesso relegate a zone perse tra virgolette personalmente con alcune persone ho già iniziato a organizzare alcune iniziative e ho pensato che attraverso l'arte si potesse raccontare anche all'esterno di questa zona che spesso con una battuta viene definita il Bronx di Torino e avvicinare chi non la conosce per mille motivi a quello per raccontare quello che sta succedendo quindi sono convinto che questo percorso sia stato utile per me per rendermi conto che in realtà mettendosi insieme c'è tanta c'è molta possibilità e spero di portare avanti i progetti che abbiamo iniziato grazie passo la parola a Sara non ti si sente Sara sono silenziosa ecco appunto avevo avvisato tutti di ricordarsi di smutarsi ovviamente non sono dimenticata io grazie Davide grazie Marina dicevo per i vostri contributi perché credo che in realtà la vostra voce sia la parte più importante di questo lavoro come abbiamo detto in diversi momenti la parte relazionale è uno degli aspetti che probabilmente ci si dimentica spesso di approfondire ma è una delle risorse fondamentali del community organizing per cui soprattutto negli anni 80 è stato predisposto un vero e proprio strumento quello dell'incontro relazionale dell'incontro uno a uno con una durata con un contenuto un'elaborazione dell'approfondimento della conversazione della relazione fra due individui che non vogliono diventare amici che non vogliono approfondire l'aspetto privato del rapporto ma vogliono sviluppare una relazione pubblica una relazione pubblica che possa essere basata su un rapporto di fiducia di conoscenza reciproca e di una riscoperta del proprio interesse personale rispetto al contesto specifico che si sta su cui si sta cercando di lavorare su cui si sta cercando di collaborare quindi ringrazio queste relazioni che si stanno creando e ringrazio questi leader naturali e innaturali soprattutto che piano piano stanno emergendo nei nostri territori e a questo punto lascerei lo spazio a domande riflessioni approfondimenti di chiunque voglia sollecitarli ecco io intanto li raccolgo dalla chat posso provare io uno uno ne ho quattro ma ne incomincio dall'uno in una nota del libro c'è Alessandro che cita un intervento che ha fatto nel sindacato presentando a un convegno su Pino Ferraris in cui ha presentato queste esperienze in Germania era organizzato dal sindacato dato che nel corso che ho fatto a Roma c'era stata un'esperienza che è stata all'interno di una conferenza intermedia in momenti di formazione c'è stata una conferenza in cui ha presentato due esperienze sindacali una con i rider a Firenze e l'altra con i braccianti agricoli volevo capire un po' se ci puoi accennare al seguito di quella tua presentazione se c'è stato o comunque ecco questa era un primo una prima domanda poi la seconda è il mio segnato era oppure un successo limitato nella cultura di chi partecipa se c'è se c'è se c'è qualche residuo che rimane quali sono le criticità che sono presenti nella nostra cultura e che rendono faticoso ad esempio il concetto di leadership diffusa in film che sono si sente disturbato entrati sugli eroi attivi o nel posto della leadership se ci sono altre criticità o si sente sì adesso si sente allora la prima domanda era riferita a Pino Ferraris giusto per ricapitolare perché la seconda parte ce la siamo un attimo persa credo tutti sulle criticità del di proporre questa questa iniziativa nella nostra questa esperienza nella nostra cultura giusto rispetto a elementi come la leadership diffusa esatto diciamo la cultura dell'eroe la leadership diffusa sono cose però oggi a livello di massa passa la cultura dell'eroe e poi se rimane qualcosa nelle nelle esperienze di coloro che partecipano a queste queste esperienze diciamo cos'è che rimane di più nella 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 cultura diciamo di coloro che fanno questo tipo di esperienze in occidente non so se è chiaro non si è sentito di nuovo no si è sentito si è sentito non so come vogliamo fare Sara se vogliamo raccogliere diverse domande commenti allora oltre a questi abbiamo ancora una domanda al momento da parte di Isabella quali sono le differenze tra il lavoro di sviluppo e organizzazione di comunità rispetto al community organizing Isabella ha lavorato a lungo nell'unità di accompagnamento sociale del comitato The Gate con l'approccio dello sviluppo e organizzazione di comunità lavorando appunto con cittadini ambulanti giovani e donne queste sono le domande che sono pervenute al momento mi direi che possiamo cominciare a rispondere poi se ne arrivano altre possiamo approfondire prego io rispondo a qualcosa e allora dunque riguardo alla domanda sul sindacato sì ci sono state delle esperienze recenti peraltro esperienze anche ancora in corso portate avanti da dei sindacalisti le esperienze con cui io sono più direttamente in contatto sono esperienze sindacali diciamo che vedono un ruolo diretto o più indiretto della CGL in alcuni casi come per esempio mi viene in mente il lavoro che forse anche tu citavi appunto sui rider costruito anche diciamo con una consapevolezza rispetto alla tradizione del community organising nel caso di quel caso Ilaria Lani che è una sindacalista che sta a Firenze diciamo ha portato nella CGL un po' la riflessione di Savo Lalinski ha portato avanti una serie di campagne che avevano effettivamente proponevano l'idea di un'organizzazione per campagne dell'azione sindacale che fosse volta anche al cosiddetto per usare un linguaggio appunto sindacale reinsediamento dell'organizzazione in determinati ambiti in cui il sindacato era poco presente il caso dei rider da questo punto di vista è molto 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 importante io ho un po' di anni che non ho più direttamente a che fare diciamo non ho più rapporti diretti con il sindacato senza dubbio sono esperienze che definirei molto innovative sicuramente diciamo di nicchia rispetto al funzionamento complessivo del sindacato che forse non sono mai riuscite appunto ad avere un impatto più ampio ma era improbabile che ce l'avessero che sono appunto esperienze molto sul terreno quindi limitate anche dal punto di vista dello spazio e del tempo su come l'azione sindacale potrebbe come dire rinnovarsi e reinterpretarsi a partire da una riflessione su alcuni degli assi che propone Alinsky peraltro noi questo ne parliamo dell'introduzione del libro uno dei terreni di riscoperta del community organizing negli Stati Uniti è stato proprio il sindacato se guardiamo tutte le esperienze che hanno avuto a che fare con alcune organizzazioni sindacali importanti mi viene in mente Seiu che è stata molto attiva nell'ambito dei cosiddetti servizi poveri quelli che per intenderci sono stati fatti letteralmente fuori dalla crisi del covid altre esperienze che citiamo in introduzione che sono di grandissimo interesse sono esperienze più di sindacato territoriale citiamo l'esperienza di Lane Los Angeles Alliance for a New Economy che è un'esperienza di cosiddetto community unionismo ovvero di organizzazione di campagne territoriali che hanno proprio a che fare con il tema del modello di sviluppo territoriale e quindi anche il modello di governance il modello di organizzazione del potere a livello territoriale quindi il tema sindacale è importantissimo e senza dubbio diciamo nel tradurre questo testo sì abbiamo immaginato che il sindacato potesse essere un interlocutore perché perché lo è stato negli Stati Uniti negli Stati Uniti diciamo tutta una fase di rinnovamento del sindacato come dire ai margini soprattutto delle grandi organizzazioni dei settori più sindacalizzati si è nutrito di quello mi ha fatto piacere che ha citato Pino Ferraghi che è stato un mio grandissimo amico ed è stato uno fra i primi che in Italia quando gli abbiamo un po' messo fra le mani Alinsky ha capito il portato il portato di insomma molto 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 interessante lascerei forse a Mattia la domanda bellissima e molto impegnativa che facevi su leadership eroe che mi sembra un grandissimo tema mi limito soltanto a dire una cosa che Alinsky da questo punto di vista dice delle cose molto chiare che non sono per niente facili da come dire da concretizzare però Alinsky dice che il leader la costruzione della leadership deve essere funzionale alla costruzione del soggetto collettivo è molto molto inequivoco da questo punto di vista che sia facile farlo è un altro discorso ma che lui faccia un ragionamento su come la leadership deve essere dal punto di vista della gerarchia delle priorità uno strumento questa è una cosa importantissima e tra l'altro voglio dire è un tema enorme oggi perché la politica è divorata dal personalismo e dal culto della leadership però sicuramente Mattia è una cosa più interessante da dire su questo è molto interessante la domanda che facevi Isabella io come urbanista sono un po' arrivato a community organizing perché passando un periodo di ricerca negli Stati Uniti ho molto avuto a che fare con il community development che è un campo di esperienze anche di organizzazioni che è andato consolidandosi negli Stati Uniti a partire dagli anni 70 che nasce e ha molto a che fare col community organizing ma e questo non lo dico io ma lo dicono i tantissimi che hanno studiato questi processi questi attori negli anni senza dubbio hanno un po' perso per strada la dimensione conflittuale cioè hanno iniziato un po' a concepire la comunità in modi diversi dagli inschi cioè come una comunità armonica senza conflitti in cui poi il tema era sostanzialmente fare in modo che anche con contesti locali deprivati e periferici fossero messi in relazione con ambienti esterni con forze sociali esterne che quindi per esempio la salvezza di un quartiere non passasse tanto dalla capacità della popolazione di organizzarsi anche in chiave conflittuale ma passasse da orizzonti quali la coesione sociale il capitale sociale fra gruppi sociali deboli e quelli più forti quindi adesso non so non conosco Isabella il tuo riferimento preciso ovviamente che lo conosci tu dovremmo parlarne più a lungo però diciamo rispetto a questo orizzonte più del community development il community organizing ha una fortissima dimensione più di organizzazione del conflitto e anche di individuazione di alcuni avversari quindi chiudo su questo parlando come si diceva di riqualificazione urbana di rigenerazione urbana se ne parla per esempio in una prospettiva in cui comunque viene un po' identificato un avversario cioè dei poteri o degli interessi che impediscono un determinato quartiere o una determinata comunità di avere un livello di benessere desiderabile mi fermo qua non so se Mattia posso aggiungere una cosa sulla questione della leadership che citava Alessandro allora il secondo me una delle questioni di grande interesse dello studio di Alinsky e anche dello studio e dell'analisi di quello che sta succedendo ora negli Stati Uniti e ora in Europa con la sperimentazione di questi progetti di community organizing è capire come si fa in modo proprio di uscire dal paradigma della chiamata eroe mi pare io ho perso un po' le cose che diceva Giorgio il paradigma dell'eroe o comunque del super leader non so se questo è il senso diciamo un soggetto che salva diciamo le comunità o i gruppi cittadini non so non sono riuscito a percepire tutto però secondo me la grande qualità dell'idea della riscoperta del community organizing di Alinsky è la dimensione della leadership anche come dimensione relazionale e di apprendimento quello secondo me è il passaggio il passaggio più come dire tra virgolette più rivoluzionario che c'è in quella in quella in quel tipo di lavoro nel senso che come dire l'elemento formativo è l'elemento di crescita di una collettività attorno alla quale poi semplicemente si creano dei nodi di persone che investono competenze tempo talento capacità cioè è un elemento chiave della realizzazione del community organizing tra l'altro io non so poi adesso non ho partecipato alle vostre formazioni ho presente un po' delle cose che ho visto ho sentito tra i processi di valutazione che si fanno all'interno delle azioni del community organizing una delle cose che si impara facendo il community organizing è quella di autovalutarsi in continuazione e l'autovalutazione in quel caso è un processo collettivo in cui ognuno svolge una parte in commedia e quella parte però è sempre in qualche modo rinegoziata ridiscussa è ricostruita insieme ad altri se va e mi capitasse di vedere le immagini dei community organizers americani si trovano anche dei documentari in reette ci sono fonti alle quali attingere spesso ci sono questi incontri che spesso sono il culmine dell'operazione dei community organizers a livello di quartiere di territorio in cui ci si incontra con leadership politiche con la controparte e tutti svolgono un ruolo nel coro che è una cosa che sempre ci colpisce molto perché viene costruita dal punto di vista teatrale scenografico la cosa più interessante è proprio appunto che lì si è costruita una leadership collettiva con alcune voci che danno rappresentanza alle persone e secondo me l'altro tema l'altra parola chiave di questo modello di formazione dei leadership è proprio quello del tema del rappresentare anzi come dire dell'essere effettivamente parte di aver vissuto l'esperienza di disagio di sofferenza di oppressione quello che sia che si intende rappresentare e raccontare per la quale si attiva il conflitto cioè la 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 vera chiave lì è l'idea del processo di auto-organizzazione cioè le rappresentanze si costruiscono i rappresentanti i leader si costruiscono dentro il corpo del soggetto le soggettività che effettivamente sono che vivono un problema non vengono delegate è una cosa banale da dire no? che uno bisognerebbe fare in modo che le persone come dire che hanno un problema soffrono una condizione di disagio eccetera debbano far sentire la propria voce però effettivamente il community organizing è uno strumento attraverso cui si acquisiscono competenze relazionali politiche di attivazione di costruzione di gruppi che effettivamente danno questo lascito cioè aiutano effettivamente a costruire rappresentanza dentro insomma il corpo sociale che deve produrre quel confronto quel conflitto quella domanda secondo me questa è la rispetto è la grande frattura che c'è oggi noi oggi abbiamo anche molto spesso abbiamo poca c'è poca rappresentanza insomma la rappresentanza è molto rarefatta non si sa come costruirla e non sempre raggiunge la qualità e la capacità che dovrebbe costruire non so se mi sono spiegato ma insomma questo elemento del costruire delle competenze autoctone è secondo me la chiave del community organizing mi fermo qui grazie grazie mattia e alessandro mi viene da aggiungere sull'ultima onda di mattia anche il il come il community organizing in un qualche modo cerchi di spronare lo sviluppo di quattro principali abitudini per volerle un po' riassumere sia da un punto di vista personale individuale sia proprio dal come azione collettiva come azione comunitaria in un particolare territorio quindi l'elemento relazionale di riapprofondire i legami fra gli individui fra realtà ancora di un particolare territorio che ancorano appunto le persone stesse a quelle realtà l'abitudine a valutarsi costantemente come accennava mattia che è proprio una pratica che viene fatta nel ciclo del community organizing alla fine di ogni momento alla fine di questo incontro ci sarà un piccolo momento di valutazione alla fine di ogni incontro relazionale di incontri di gruppo di formazioni è una prassi che si prende che diventa una critica in un qualche modo ma costruttiva volta non tanto ad evidenziare i lati negativi ma per accrescersi per migliorarsi reciprocamente per percepire delle diverse visioni di uno stesso tema la pratica dell'analisi del potere quindi costantemente mettersi di fronte a un un'analisi appunto di chi possono essere persone che si trovano nella mia situazione quindi potenziali alleati quali sono le conoscenze che io ho su quel particolare argomento problematica tematica dove posso effettivamente agire che cosa mi manca da un punto di vista pratico o da un punto di vista di conoscenza più teorica e quindi chi possono essere invece dei potenziali oppositori in questo senso e nella pratica del community organizing c'è a un certo punto prevista proprio la personificazione di questo potenziale nemico di questo potenziale oppositore che non è esattamente un nemico ma un oppositore un soggetto che si mette fra te e il tuo processo collettivo e l'obiettivo che ti preponi di raggiungere e quindi cosa far sì o meglio cosa poter fare per far sì che quella persona venga personalizzata e polarizzata per riuscire a smuovere a sbloccare il sistema quindi mettere esplicitamente un bastone fra le ruote dell'ingranaggio e farlo saltare per poi di nuovo riprendere il percorso nel costante abitudine all'ascolto dei propri partecipanti dei propri colleghi abitanti del proprio territorio e sono tutta una serie di pratiche che secondo me diventano fondamentali nel non preporsi con delle soluzioni preconfezionate con delle regole rigide c'è un pacchetto una forma di scatola degli strumenti degli attrezzi da cui uno può attingere in maniera più o meno lineare per riuscire ad acquisire quelle competenze quella anche quell'autostima quella consapevolezza di poter avere un ruolo di poter fare qualcosa per cambiare perché se qualcosa che non ti va bene allora se non ti senti di poter cambiare le cose se non ti senti di avere quel potere per raggiungere un certo risultato demordi in partenza è l'obiettivo del community organizing nello sviluppo di questo potere relazionale perché di questo si parla è anche ricostruire questo senso di consapevolezza delle proprie capacità e qua mi taccio se ci sono altre sollecitazioni Angela prima vedevo che avevi alzato la mano magari volevi aggiungere una riflessione mi sentite? mi sentite? sì ti sentiamo Angela io lo sento non sento nulla ah ok ovviamente oggi proprio io non ci sono parecchie cose però mi sembra che ci fossero tantissimi spunti che varrebbe poi la pena riprendere ma adesso solo una piccola curiosità che mi veniva perché mi pare che Luca Ozzano abbia parlato del fatto che quando Aglis che è venuto in Italia ha incontrato Livetti e allora volevo chiedergli se c'era qualche mi incuriosiva questa questa cosa io sono stata vent'anni ad Ivrea e certamente il segno di Olivetti anche se non erano più gli anni per il Doro era già dopo è stata però sicuramente molto molto significativa e sarebbe interessante capire le relazioni ecco tra gli ischi Olivetti non sento più eccomi ma sì lui è venuto in Italia fra l'altro non mi ricordo se non mi ricordo se l'ho accennato quando quando ha fatto il mio intervento però lui il suo principale contatto in Europa era il filosofo francese cattolico maritain con cui ha avuto un carteggio per diversi anni che è stato poi anche pubblicato e quindi aveva anche dei rapporti molto buoni con la Chiesa Cattolica anche perché negli Stati Uniti aveva lavorato con la Chiesa Cattolica a Chicago e in altre città e quindi aveva anche dei contatti a livello della Chiesa Cattolica quindi era un po' i suoi contatti erano un po' in questi ambiti anche possiamo dire comunitaristi un po' quindi era anche naturale che incontrasse che incontrasse Olivetti e da parte di Olivetti pare che ci fosse stato un interesse per il metodo e che avesse anche pensato di pubblicare di tradurre per primo il libro che poi è stato tradotto solo adesso che però fosse stato scartato perché in qualche modo si temesse che le idee che risultassero troppo radicali e quindi più o meno questo è quello che si racconta insomma poi non si sa non si sanno bene i dettagli non so se Alessandro e Mattia hanno qualche cosa in più da raccontare su questo ma io posso aggiungere una cosa che non riguarda solo poi Alessandro che non riguarda solo solo Olivetti ma in generale l'attenzione che c'è stata l'attenzione questo proprio per situarla storicamente l'attenzione verso Alinsky allora noi appunto dobbiamo tenere conto adesso scusate come dire il momento di vanità ma un paio di giorni fa tre giorni fa è uscita la recensione su Repubblica Alberto Flores D'Arcais del libro e lui diceva questa cosa come dire del leader nascosto in realtà noi stiamo avendo a che fare con una persona che scopriamo adesso in Italia ma che negli Stati Uniti ha sempre avuto una grandissima ha sempre affascinato politici organizzatori e che in moltissimi casi viene preso come modello nel bene e nel male al quale fare riferimento i conservatori americani persino il Tea Party che è stato un movimento anti Obama di una decina di anni fa che era contro le tasse e contro la riforma sanitaria utilizzava contro il community organizer Obama che era stato community organizer da giovane utilizzava delle tecniche che pensava di prendere Daninsky Hillary Clinton ha scritto la tesi su di lui ha avuto come dire un confronto con Martin Luther King confronto anche più aspro con le pantere nere e in Italia è stato oggetto di interesse appunto di personalità importanti quindi stiamo parlando in qualche modo tutto sommato di un di un gigante e l'interesse che c'era in Europa veniva riconosciuto anche perché poteva essere utilizzato in quegli anni come strumento per mobilitare le persone produrre domanda anche un certo tipo di conflitto di confronto eccetera ma soprattutto non era comunista dunque per il mondo cattolico ma anche per Olivetti il fatto di avere come dire una radicalità non marxista alla quale poter attingere era un elemento di grande interesse quindi storicamente e però come ci ha detto giustamente adesso Luca era complicato da maneggiare perché poi la radicalità americana che per certi essi era molto forte perché poi negli anni in cui Alinsky emerge negli Stati Uniti negli anni 50 e 60 c'è soprattutto l'elemento del conflitto razziale c'è un conflitto che ha a che fare con la cosiddetta color line col colore della pelle ma anche con questioni sociali che è molto radicale e che è molto lontana dalla conflittualità europea in quel periodo quindi c'è un insomma la cosa non a caso anche la CISL si interessò a Dalinsky che aveva Fiesole è una scuola importantissima di studi insomma di formazione dei quadri secondo me il paradosso è che adesso è più facile che Alinsky interessi di più agli europei ora che sono venute meno appunto quelle grandi case che producevano cultura politica ideologia organizzazioni partiti grandi sindacati è adesso che noi siamo per certi versi più frammentati una società più frammentata più diversa più purale è forse più facile vedere con altri occhi per noi il 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 lascito di Alinsky secondo me è quello una insomma quella è una delle chiavi che paradossalmente noi siamo più aperti adesso a utilizzarlo rispetto a quello che poteva essere 50 o 60 anni fa sì io volevo aggiungere solo una cosa la cosa che diceva la Mattia perché in effetti sì senza dubbio un po' di interesse senti sì ti sentiamo un profilo di interesse è seguire un po' i percorsi di arrivo di questo non so se sono soltanto io ma penso che tutti sentiamo no lo sentiamo tutti credo abbia la linea disturbata e non senta bene noi e quindi si sta più dicevo appunto molto interessante seguire e io non ne so non ne so abbastanza sicuramente sia sia Luca sia Mattia ne sanno molto più di me seguire i percorsi di arrivo di questo bizzarro pensatore in contesti che non gli sono come dire insomma nei quali non è consueto quindi appunto questa vicenda dell'arrivo in Europa il rapporto con Maritain la questione della Cisla che citava appunto Mattia la cosa che mi fa riflettere è che appunto in un contesto nel quale la politica era organizzata prevalentemente attorno alle alternative della guerra fredda Alinsky poteva sembrare una sorta di carta alternativa no alla alla sinistra diciamo così o quantomeno alla sinistra comunista fa oggi impressione guardando per esempio le cose di cui più mi occupo che sono le questioni urbane fa oggi impressione quanto probabilmente leggendo Alinsky oggi applicandola come funziona le nostre città non c'è niente di più radicale di Alinsky cioè già l'idea che appunto anche Sara richiamava poco fa cioè l'idea che ad ogni che per ogni posta in gioco e per ogni processo sociale debba essere per esempio individuato un avversario oggi è una cosa quasi impronunciabile in moltissimi in moltissimi ambienti e e credo che da questo punto di vista la carica di Alinsky sia una carica di rottura anche per questo perché propone una visione radicale della società senza necessariamente cadere nei cliché no nei cliché delle letture passatemi un termine un po' facile letture più ideologiche di come funzionano le nostre società e questo credo sia un grandissimo portato perché Alinsky può essere letto davvero come un'introduzione al tema dei conflitti della democrazia delle diseguaglianze di potere delle assimetrie di potere senza avere necessariamente un retroterra questo l'ho sempre trovato molto affascinante di Alinsky e credo che sia il suo il suo anche portato innovativo che anche magari la ragione per cui a qualcuno non piace senza dubbio però a noi piace anche per questo volevo dire una cosa Fofi Olivetti ci aveva messo in piedi una scuola per assistenti sociali a Roma e Fofi ci aveva partecipato insieme a Lorenzo Barbera che in quegli anni animava le lotte non violente nella valli giorgio se ci senti la tua condizione mi sa che è disturbata l'esperienza dell'esperienza di Giorgio se vuoi scrivere io riporto nella chat il tuo approfondimento su Fofi ok grazie volevo rispondere ancora a una domanda e poi direi che siamo praticamente in chiusura di Samia che ci chiede ma nel vostro approccio avete usato oppure meglio dire avete utilizzato la mediazione interculturale vista le caratteristiche della zona credo che Samia si riferisca alla zona di Torino Nord in questo caso e quindi lascio anche in un qualche modo la parola a Marina e a Davide di approfondire intervenire se vogliono e se se la sentono io rispondo per quel che mi concerne non espressamente come mediazione interculturale visto il livello diciamo a cui siamo in questo momento dell'iniziativa di avvicinamento di coinvolgimento iniziale di condivisione della metodologia e sfortunatamente non siamo ancora riusciti a fare tutto quel coinvolgimento diretto con gli abitanti del territorio con gli incontri relazionali che sarebbero caratteristici e fondamentali di un'iniziativa di community organizing almeno non tanto quanto avremmo voluto ecco quindi non ci siamo ancora trovati a dover utilizzare la mediazione interculturale vista la caratteristica della zona tuttavia credo che sia un approccio che diventerà fondamentale fra non molto e che la figura del mediatore interculturale sia una delle figure da valorizzare le competenze siano da condividere se questi approcci vogliono effettivamente come quello del community organizing andare a cogliere e valorizzare le diversità delle diverse comunità che sono parte di e caratteristiche di quel territorio specifico altrimenti viene un po' a mancare il senso della sua natura stessa quindi io risponderei così alla domanda di Samia se Davide e Marina volete aggiungere qualcosa prego sì ma allora questo è un quesito che c'eravamo posti anche durante la formazione considerando che una delle punti del percorso del community organizing sono le campagne di ascolto e che credo che sia una fase molto come dire impegnativa considerando anche il paradigma con cui si raccolgono e si ascoltano le cose che sono il paradigma è quello europeo e come dire anche le orecchie che ascoltano sono improntate su come dire delle idee un modello europeo poi diventa difficile capire anche le difficoltà che possa avere una persona straniera a Torino faccio un esempio il discorso sulla mobilità sostenibile a Torino allora si parla di piste ciclabili e dell'uso della bicicletta e poi magari per una persona che vede in un mezzo privato un il raggiungimento no di un di uno come dire di uno passate mi il termine di uno status symbol dire ok tu devi raggiungere il tuo lavoro in bicicletta no è secondo me una una cosa di cui tener conto oppure parlando con una persona che ha fatto parte del del percorso formativo che si occupa di orti urbani gli ho chiesto quanti stranieri partecipavano ai bandi e lui mi diceva praticamente nessuno perché lavorare la terra è considerata da molti un lavoro dequalificante quindi la domanda è pertinente e anche noi che lavoreremo sul territorio saremo chiamati ad un ad un lavoro secondo me anche molto impegnativo ecco sicuramente molto arricchente se posso aggiungere una cosa un po' come succede a livello cittadino nonostante esistano ci siano migliaia di cittadini stranieri spesso il fatto che questi vivano nella stessa zona e frequentino le stesse persone che sono a loro volta straniere fa sì che difficilmente poi ad esempio intercettino iniziative come queste e quindi è importante cercare di trovare dei canali per entrare e per dare anche l'opportunità a persone che magari potenzialmente avrebbero interesse a farlo di creare comunità diverse da quelle che già ci sono posso dire una cosa perché ho trovato questi due interventi interessantissimi fondamentali infatti a Linsky dovrebbe un po' servire a questo devo dire insomma trovo i vostri due passaggi importantissimi perché perché nelle nostre città diamo per scontato che la riqualificazione urbana la rigenerazione urbana sia sostanzialmente fare quello che vuole il gruppo sociale di cui anche io faccio parte che è il ceto medio urbano quindi vogliamo le biciclette quindi vogliamo no gli spazi pubblici quindi vogliamo spazi di incontro e così via e la gran parte delle cose che oggi succedono nelle città succedono perché essenzialmente questi gruppi sociali si attivano e le amministrazioni le giunte comunali sostanzialmente fanno leva sull'attivazione di questo gruppo sociale io vivo in un quartiere dove c'è una dinamica di questo tipo e dove una quota significativa della popolazione che sono gli immigrati sostanzialmente non esistono non hanno alcuna presenza significativa in quello che succede nel quartiere e in come il quartiere si rappresenta le politiche che si pensano per il quartiere allora questa è una questione fondamentale e il community organizing in Italia dovrebbe secondo me assolutamente ce l'abbiamo già però in un'ipotesi di sviluppo dovrebbe assolutamente ripartire anche da una serie di quartieri che sono dei quartieri così che sono dei quartieri socialmente compositi in cui c'è una significativa quota di popolazione migrante che attenzione questo va sottolineato noi andiamo voi lo saprete sicuramente meglio di me ma si dice gli immigrati ma in gran parte è una popolazione di origine migratoria che spesso sono ormai anche cittadini italiani quindi ci sarebbe anche una leva dal punto di vista dell'organizzazione a livello locale quindi gli esempi che si facevano sull'orto urbano sulla bicicletta e anche le cose che diceva Davide sono per me fondamentali e guardate che ripeto questo è uno dei tipi di discorsi che si sente poco e che invece bisognerebbe davvero diffondere il più possibile questo approccio problematizzante ad alcune cose che noi diamo per scontato perché le diamo per buone perché poi sono buone e beh andare in bicicletta fa bene al pianeta però non è che tutti abbiamo lo stesso rapporto con la bicicletta dal punto di vista sociale dal punto di vista culturale e così via quindi veramente grazie molto molto di ispirazione posso aggiungere una cosa vorrei aggiungere una cosa che mi interessa condividere con voi allora io mi occupo io sono una professionista sanitaria fortemente interessata all'approccio della promozione della salute quindi un tema che viene giocato all'interno dei servizi sanitari che invece abbiamo visto che funziona molto poco allora anche per esempio il concetto di salute no e anche il concetto di comportamento noi abbiamo visto nella nostra esperienza con il covid è stato se vogliamo passatemi il termine una criticità un problema no allora ci sono delle etnie a Torino che si sentono malate nel momento in cui hanno dei sintomi immaginatevi dire a una persona dell'Africa subsahariana che ha questo tipo di cultura anche se non sei malato devi stare a casa anche se non hai la febbre devi stare a casa perché potresti essere come dire un portatore di contagio per altri questo è stato un problema nella gestione della pandemia così come molti hanno detto il covid è stato democratico e io onestamente mi cazzo quando sento questa roba perché fare il lockdown in 40 metri quadri in 4 con una dad e avere soltanto l'hotpot del telefono come forma di di connessione è diverso no che fare il lockdown in un ambiente in un'abitazione quindi qua parliamo di politiche abitative nettamente differenti e quindi insomma questo è un pezzo ovviamente di tutto il ragionamento che abbiamo fatto però è veramente fondamentale provare a a mettersi degli occhiali differenti su un territorio così particolare come è quello di Torino per esempio grazie io ringrazio tutti tantissimo sono le 18.56 quindi in realtà andrei verso la chiusura sono molto molto soddisfatta di tutte le sollecitazioni che sono emerse perché credo ci sarà ancora molto da approfondire grazie ad Alessandro e a Mattia per aver presentato il libro e aver approfondito alcuni aspetti un po' chiave un po' più misteriosi ma secondo me anche un po' difficili ecco a volte culturalmente da accettare e da vedere con un occhio costruttivo e grazie tantissimo a Giorgio e ad Angela per aver voluto sviluppare questo momento volerlo organizzare e speriamo che ce ne siano altri e infine ma non per ultimo grazie a Luca per aver fatto avviare tutto questo percorso a Torino e grazie a Marina e Davide perché in realtà siete parte integrante di tutto questo percorso e come ha accennato prima Alessandro la reale ciccia la parte più bella ecco secondo me di tutto questo lavoro che stiamo facendo insieme e quindi ritrovo la parola ad Angela per chiudere a meno che non ci siano altre considerazioni e grazie ancora grazie la voce Angela non ti si sente attiva l'audio si sente adesso? ok è la prima volta che uso il collegamento con il cellulare quindi è stato un po' un casino comunque anch'io ringrazio tutti mi dispiace un po' di queste cose tecniche un po' più così però credo che ci siano stati veramente molti molti spunti ci sono dei cammini che si incrociano e penso che possiamo veramente come dire guardare ad una prosecuzione di questo di questo rapporto ad un approfondimento di queste conoscenze con voi ecco Giorgio è già lì è già l'anello di congiunzione ma penso e spero insomma che riusciremo anche a trovarne altri quindi buonasera grazie a tutti quelli che sono intervenuti a quelli che ci hanno seguiti e credo proprio che tra l'altro questo incontro sia stato di grande stimolo proprio per leggerlo poi il libro di Arinsky grazie ancora grazie mille grazie a voi buona serata ciao buonasera grazie ciao alla prossima ciao ecco adesso siamo di competenza per chiudere ecco spero che sia ci sia Ilaria per chiudere perché io purtroppo da questo non sono capace a chiudere a togliere sono capace di andare via io ma non a chiudere intanto possiamo uscire tutti e se ti è piacere di chiamarla così sì va bene d'accordo grazie ancora ciao 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 ciao